Sammy, il tuo scudo è quasi pronto, guarda! Sì, grazie, sei la migliore! Voglio giocarci adesso! Sarò il più grande vichingo di tutti i tempi! Ah, non vedo l'ora! Ah, ma che cosa succede? Oh, accidenti! Aiuto la mia casa! Sì, salvami, non riesco più a resistere! Oh, la mia feta, che cosa posso fare? Questo vento mi spazzerà via! È già finito? Oh no, la mia povera casa! Che cosa posso fare? Tutto rovinato! Non tornerà mai più quella di prima! Tranquilla, sistemeremo tutto in un attimo! Giusto, cominciamo rimuovendo tutti i detriti! Ora ci occupiamo della doccia, la nostra Barbie ha bisogno di rinfrescarsi! Wow, interessante! Ascolta, ho un'idea geniale! Cosa c'è, Sammy? Non so cosa abbia in mente, ma qui manca sicuramente qualcosa! Sì, scusate, mi sono distratta! Ci servono soffione e tendina! Posizioniamo qui il soffione della doccia Proprio così! Credo sia fissato saldamente! Adesso prepariamo la tendina, come questa! È molto facile da fare, ha un aspetto bellissimo! E la tende al suo posto, per me è stupenda! Ecco qui! La doccia per Barbie è pronta, che ne dite? Ma dov'è l'acqua? Giriamo il rubinetto... E ancora una volta... È freddissima! Oh, poverino, lascia che ti aiuti! La prossima volta fa più attenzione, ok? Grazie! Ci serve il gancio! Usiamo il mio anello per crearne uno! Ecco fatto! Adesso possiamo aggiungere un morbidissimo asciugamano rosa! Ma non è tutto! Abbiamo bisogno anche di un lavandino! Non è pronto ancora! Aggiungiamo anche un rubinetto! E un paio di dettagli! Ecco il lavello al suo posto! Potremmo anche mettere un simpatico specchio qui! Sì, ho aiuto! Sono bloccato! Un paio di cuffie possiamo usarle nella creazione! Modifichiamole e sistemiamole un po'! Ma certo, sono davvero utili e per questo che le ho portate! Con questo possiamo realizzare un asciugacapelli per bambole fantastico! Credo che per i capelli di Barbie serva qualcosa di più potente! Aggiungiamo un cavo elettrico e il nostro asciugacapelli funzionerà alla perfezione! Proviamolo! Sembra un uragano! È piccolo ma potente! Posso fare la doccia adesso e il mio bagno è bellissimo! Lascialo a me! Ah, ma che bello! Ecco a voi vostra altezza! Mi sento già molto meglio! Asciughiamo i capelli! Prima però li spazzoliamo con cura! E' arrivato il momento della lavatrice! Non possiamo farne a meno! Sembra proprio quella vera! Una volta la mia si è rotta e ho dovuto lavare tutto a mano! È stato divertente, ma non così facile! Con questo Barbie potrà occuparsi dei suoi vestiti sporchi! Sì, guarda qui! Ho fatto un contenitore per il detersivo! Grazie, Sammy! Questa vaschetta è fondamentale! Qui metteremo il detersivo per il lavaggio! Aggiungiamo qualche altro dettaglio! Come ad esempio questo! Questi! E' fatto! Certo che Barbie avrebbe bisogno di un vero detersivo per lavare i vestiti! Hai ragione! Ed infatti è qui! Ne ho fatti due tipi diversi! Oh, li hai fatti per me! Grazie! È il momento di cominciare a far muovere la lavatrice! Voglio sistemare qualcos'altro! Abbiamo già finito qui! Potresti aiutarmi col soggiorno? Ma certo! Mi servirà qualche altro utensile oltre alla chiave inglese! Già, la tua casa non ha un aspetto gradevole ancora! Potremmo provare a fare... Lo so! Possiamo mettere qui una piscina con delle palline di plastica! Non è quello che intendevo, ma... Ok, allora facciamo delle poltrone! Adesso mi trovi d'accordo! Le faremo di cartone, come sempre! Sì, potete occuparvi delle stecche, per favore? Sì, certo! Stecche e bastoncini di legno! Volete vedere chi finirà per primo? Realizzare due sedi contemporaneamente sembra quasi una sfida! Credo proprio che prenderò del cartone in prestito, Sam! Proprio da te! Non riesci a fare niente senza il mio aiuto, vero? Niente battute! Sono pronta a montare la mia poltrona! Mi sembra che tu abbia ancora molto lavoro da fare! Io invece devo solo mettere i cuscini al posto giusto e... Fatto! La mia magia degli slime torna sempre utile! Anche io ho i miei trucchi, sai? Ecco qui! Che cosa mi dici? Ma, d'ora in poi mi siederò accanto a te e osserverò ogni tua mossa! Oh, che spavento, ragazzi! Sam mi avvolti se essere molto persuasivo, vero? Deppure è quello che vuoi, ma io qui ho i piedini per la tua poltrona! Aspetta, ridammeli! Semmelo slime saputello non perde mai una battaglia! Ricordalo! E poi la mia poltrona è la migliore! Tutto qui? Molto bene! Torneremo presto con altri progetti! Restate con noi! Un topo! Questo succede perché c'è sempre un gran disordine! Ci serve un buon aspirapolvere in fretta! Per un certo slime ogni occasione è buona per lasciare cose in giro e dire che è la sua natura! Coloriamolo un po' adesso! Tio, guarda che cosa ha portato l'uragano! Possiamo usarlo? Certo! Guarda! Uniamo il tutto! Anche il nostro aspirapolvere ha bisogno di un paio di ruote! Ed è una maniglia! Questa graffetta andrà benissimo! Hai ragione! Cerchiamo di modellarla un po'! In questo modo Barbie potrà portare l'aspirapolvere in giro per le stanze della casa! Ed ecco che arriva l'interruttore! E abbiamo finito! È il momento di provarlo! Cosa c'è che non va? No! Aiuto! Aiutatemi! Aspetta! Ora devo farmi una doccia! Ehi, guardate un po'! Boom! È una lampada da design! Due gambe sono meglio di una, vero? Esatto! Mettiamo insieme tutte le gambe così! E ora nascondiamo le punte affilate all'interno di uno stick colorato di colla a caldo! Una graffetta e del nastro adesivo colorato completeranno la creazione! Sì, o perché non facciamo un campo da basket? Qui abbiamo tanto spazio! Povero Scemmi, ecco perché non si gioca a palla in salotto! Hai ragione! Allora metterò la palla qui! O magari lì, forse! Sì, o non c'è spazio per la palla! Abbiamo sicuramente bisogno di un mobile! Ho appena ricevuto il materiale per farlo! Io invece farò una mensola con gli stick per la colla a caldo! Guardate, realizzare un mobile è molto semplice! Bisogna solo assemblare i pezzi! E se volete essere creativi, seguite il mio esempio! Piegate uno stick per colla a caldo e praticate un leggero taglio sull'arco! Sicura di aver fatto un taglio proprio al centro? Sì, sono certa! Ma grazie per l'interessamento! Ora tagliamo a pezzi un righello di legno e coloriamo i frammenti con il nostro colore preferito! Facciamo asciugare la vernice e poi incolliamo le mensole al lato dello stick di colla Attacchiamo l'altro stick e la mensola è pronta per essere utilizzata! Ecco qui! Che altro possiamo fare, Sammy? Ho un'idea! Possiamo creare uno scivolo! Sarebbe molto carino! Credo sia meglio fare delle sedie nuove Ma perché Barbie ha già delle poltrone? Ehi, ospiti! Come prenderanno il tè e mangeranno le torte? Hai detto torte? Allora sono d'accordo! Abbiamo bisogno di una bottiglia di colla vuota come questa! Cominciamo! Ed ecco che cosa dovremmo ottenere! Una base per la sedia! Sei proprio un burlone! Ci servono due di questi! Oh, scusate gente, questo è quello che cercavo! Susi, cos'è successo? Non capisco! Che non è una coperta, è il rivestimento delle sedie! Vedi? Ecco qui! Ok, ma perché se la tua magia non è riuscita sono coinvolto io? Rimani fermo! Hop! È solo del nastro biadesivo, vedi? Ok! Ora possiamo coprirlo con del tessuto, così! Premo bene qui! Ok, tu hai il nastro biadesivo, ma io ho un bersaglio da colpire! Wow, che precisione! Ecco l'altro pezzo con altre due gambe e la sedia è pronta! Grazie Sam, grazie Sue, siete dei veri amici! Questa casa è di nuovo bellissima! Siete d'accordo? Mettete un bel pollice in su a questo episodio! Sì, Barbie, per noi non è mai un problema, se hai bisogno di qualcosa sai dove trovarci! Ciao a tutti!